Ho bisogno di aumentare il GPM del mio cuore Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale Oggi siamo tornati, incredibilmente Nessuno l'avrebbe mai detto, con un video in ufficio Grazie per questi effetti di fumo Che creano dell'ansia e del timore Ti ho avvitato il pascreen Oggi siamo tornati su un video Pazzesco Mai visto, mai fatto Mai fatto e visto prima Non sul canale ma Nella nostra vita ci piace giocare a questo videogame Oggi siamo sempre con il Fantastico Ron E il grandissimo Operatore del mondo Deluxe Per giocare ad un gioco Che comprende la nostra conscienza Rapidità e intuito Oggi a che cosa giochiamo? Giochiamo a The Last World L'ultima parola Abbiamo due mazzi di... Per favore fatemi spiegare Abbiamo due mazzi di carte In uno ci sono delle lettere E in uno ci sono delle cose Degli argomenti Si alzerà il mazzo delle lettere Il mazzo delle cose da dire E si trova a dire una parola Che inizia comunque la lettera E guardante quell'argomento Il... Il punteggio Funziona in un modo molto semplice no? Avremo un random ticker Che ci darà dei secondi Che vanno da 15 a 40 Più o meno Che è un nome troppo casuale Random ticker Che è un nome troppo casuale? Figa Nel momento in cui esploderà Quello che dovrà dire la parola Che non l'ha detta Esploderà Esploderà Dopo tre turni è finito il build Va bene Alla fine chi non dirà la parola Meno uno Chi ha più punti vince Chi ha meno meno uno Chi ha più punti Chi ha meno meno uno Ah devo scegliere io? No Ah no ok ok Ma fatti i cazzuoni Ah Uff Ah ma hai cambiato le lettere là Eh no perché erano qua le lettere Io ho detto che cazzo sta facendo Nomi Facile Nomi è facile Nomi è semplice Siete pronti? Sì Possiamo partire 3D1 Via Andrea Alessandro Alice Antonio Alessandra Alessio Astrubale 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 che cazzo è? Antonio Trovami un bambino che si chiama Astrubale Ma non esiste nessun bambino Alessia vai per favore Non è il nome bambino Alessandra L'ha già detto Alessandro Alessio L'ho già detto io No L'ho detto io Antonia Antonia Allora Allora A Te C'è una falla in Matrix Maledizione Antonio era morto Underline Qua c'è una falla in Matrix Poi scriveremo una frase Sì 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 Sempre Ma come Zeta Zeta di Zorro Ma è veramente È l'unica cosa possibile Zeta di Modi di morire Animali Oddio era la stessa dell'altra volta Non lo so Sì che tu hai detto zebra Sei sicuro? Sono abbastanza sicuro Non è possibile Sì fidati Vabbè tanto la dite 3 2 1 Via Zebra Difficilmente dirà Un altro animale con la zebra Eravamo andati avanti noi Non credo Posso dirla io a seconda Ora non c'è più la seconda Tra Prego su ora Prima che si ricordi Della seconda Avevamo detto due l'altra volta Sì Ce l'ho l'altra La zanzara Nooo Merda quella volevi dire Cazzo È vero che io ho detto Zanzara tigre E non puoi Non dirne un'altra Non ne offra Anche perché probabilmente Dice la tua E quindi tu rimani senza Come ha fatto lui Io non ce l'ho un'altra Io avevo zanzara Posso tornare a svapare Sì cazzo Just Ron Ma non può essere il Zeta Come l'altra volta animali Fra La casualità Che possibilità c'era Tra 20 lettere e 15 cose Che dicevamo la stessa E che io fossi giusto giusto Il terzo Che non esiste Bisognerebbe calcolare La probabilità Di uscita di questa cosa Perché è molto raro È impossibile Perfetto vai Dello Lettera P di Loizzo Vediamo Se adesso riesce a insulti Io mi ammazzo Città Città con la P Sì 3, 2, 1 Via Beh dai No mi sto giocando il tempo Ma magari suona adesso Palermo Pai via Bordelone Pescara Parigi Positano Pisa Paradova Porca Eva Pascara Pisa Ho già detto io Dai cazzo Una con la P Sì Qual'altro ce l'ha Porto Gruaro Porto Gruaro Vai Geron Per ora abbiamo Azz N Oppure Paz N Pants N per il cibo N cibo 3, 2, 1 Via Noccioline Nuggets Nikiri Uh Il famoso Nettare Vorrei dire quella parola ma Noci l'ha detto No ha detto noccioline Noce Noce di cocco Uuuuh Ahahahah Non è sano Ha capito ma mi ha amato anche il tempo di controllare Non è vero Eh quella è la casalità Due secondi Sono anche due secondi Di che cosa Uno Due No era nino franzo No conta Metti un timer in quel momento Non era due secondi S Brand Uh Questa è buona Dai S brand 3, 2, 1 Via Stradi 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 No generali Stradi Samsung Eh Samsung Suzuki Ha suonato o no No Salumi salami Non esiste Salumi salami Ne ho due Se vi ho giocato entrambe le mie due vi ammazzo Si meno male San Montana San Pellegrino Samyang E' una guerra alla non sconfitta tra me e Dread qua Oh no ma Dello non può vincere Madre arrivo Perfetto vai Non devo arrivare l'ultimo La R di Tramato Cose che hanno a che fare con l'Italia Le due uno via Le rotatoie No ma che vuol dire Che significa le rotonde La rondella del bullone No Si ne abbiamo un botto Ma non vale Userò gli incroci Non vale Orca puttana Aspetta R R che ha a che fare con l'Italia Ah che città Rimini Roma Ragusa Riccione I rioni I rioni Rubare T Non è una T di torco L Ma che cazzo stai dicendo Ma che cazzo Ma che L fai tu Con una rigata un po' più lunga Con l'autismo un po' più Youtubers Nome d'arte o nome e cognome Si dica Canale Canale Ah con la T è vero The Show Tejb Tejbz Come si chiama Come faccio i cosi Tej Tej No no Tejbz Quello Vabbè è uno che facevi il secondo Oh un punto di luca Questo lo andiamo a valutare poi Ci ha messo un quarto d'ora per dire Tejbz Tejbz Ah Tejbz E non so come si pronuncia Andate a fare in culo tutti e due Voi e te Tebiz E sono il primo coso seguito nel mio video Quello è svedese Si Quello biondino Si quello biondino Esatto Eh tocca a me Non è non è fair comunque questo Ma vabbè Ma sta zitto Ma è a cacare Matteo Modi per morire 3 2 1 via Morte per Morte per mamma Un'e' semplice Tipo malattia Malattia Rasturbazione È stato un turno molto facile Ma ho già perso Bene io sono arrivato ufficialmente ultimo C'è una gara al secondo posto BD BD Bastardi Impregazioni 3 2 1 via Bastardi Bestia Bestia Buzzigona vale Non è imprecazione È un insulto È un insulto Eh che bastardo Balordi Boia Ma boia chi? Boia Buttanazza Guarda Ho capito Dai E questa era quella di però Fran Bioladero Ciao Ciao Mische Ciao Mische Buon lavoro Ma qualcuno Ma quante ne ho perse Ma ne ho perse 6 su 9 Ragazzi E abbiamo ancora qua L'ultima Se perdi fai Non fare più niente Vabbè tanto Secondo posto ce l'ho Ho fatto gli stessi punti negativi Dell'altro video Eh avevo fatto uguale Dici che non poteva mai essere bello Come un'altra cosa Vai 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 L'ultimo round L Parole in inglese Via Leggings Lots Lights Like Life Love Live Lime Lobster Lemon Loves Risate Lose Lattice Lunges Limoni L'ha già detto Live Vivere Sì l'ha detto Ti prego Sona Così c'è uno spareggio Per il secondo posto Lager Non me è una parola in inglese Oh London Ora faremo uno spareggio Voi decidere Prendi una lettera E ci diciamo una roba Al volo Rimescoliamo Una nuova inedita lettera C'è un pareggio Pareggio per il secondo Tu alza questo E tu alza quello Vai 3 2 1 Alza F Modi per morire 3 2 1 via Fissione nucleare Fulminato Folgorato Frattura Ferita Ferita non muore Con la ferita Se mi taglio E faccio una ferita Esce troppo sangue Frana E qui il tempo è partito No Ero sul long Ero sul long Decideranno I fan Una frana che ti cade addosso Muori Però Però deve essere Legit Non può essere un favoreggio La fissione nucleare Hai detto Porco 2 Finisci Non si parla di che cosa si è detto E comunque siamo andati avanti Si parla del tempo È suonata prima che tu dicesse Frana Lo decideranno No no Lo farei tu Appena fatto La prima notte C'era già il frr E c'era già il frano Questo video finisce qui Io ho vinto No Se guardiamo Se cambiamo il segno Ho vinto Vabbè come dire che io c'ho Meno 5 mila euro Poi diventano 5 mila euro Cioè Puoi farlo? Io posso farlo Bene Noi sentiamo un prossimo appuntamento Che sarà Durante questi giorni Passate dai loro canali Luigi, Youtube, Instagram Pornhub Ron sei troppo competitivo In questi giochi eh Vuoi sempre arrivare primo Con la competizione di questo tipo Bisogna rispondere con competizione Ci sentiamo la prossima Bella Bella Bella